Elementari, medie e superiori, per me non era cambiato nulla. Fin dai primi giorni scoprì che non aveva un bel rapporto con la scuola. Se la mamma di Pierino ha tre pomodori e ne vende due, quanti ne rimangono? Tutti i miei compagni si girarono verso di me e si misero a ridere. Io non capivo il perché. Nelle medie, cambiando l'ordine degli alunni, il risultato rimase invariato. Questa volta era l'insegnante di storia ad avercela con me. Allora, Pomiro, dimmi l'autore del romanzo Il Barone Rampante. Perché? Io mi girai verso i miei compagni per cercare un suggerimento. Ma ci fu un vero e proprio bullismo nei miei confronti. Erano tutti lì a dire, Calvino, Calvino, Calvino. Non vedevo l'ora di arrivare alle superiori. Ma anche qui fu uguale. Questa volta era il professore di fisica ad avercela con me. Allora, Pomiro, ci vuoi parlare o no di questa forza di gravità? Che cos'è per te? La forza di gravità, per me? Non so nemmeno io come ho riuscito a uscire da quelle scuole. Sessanta centesimi. Sì, ce l'ho fatta per un pelo. Ma la soddisfazione più grande me la diede il professore di educazione fisica qualche anno dopo. Pomiro, sei stato un ragazzo coraggioso. Forte. Ad oggi sei un uomo nuovo. Nuovo. Ma come? Ma che miau?